512.000 euro. Ma avete ricevuto già qualche telefonata di ringraziamento? No, per il momento ancora no. Avete il sospetto di chi possa essere stato a vincere? No, purtroppo no, perché di giocatori ce ne sono tanti, quindi non abbiamo ancora nessun sospetto. Avete più o meno un'idea di chi possa essere ad aver vinto? Crediamo più uno di noi, insomma, una della zona. Quindi qualche residente di Giuliano? Sì. Avete festeggiato comunque alla fine quando avete saputo? Sì, perché noi siamo comunque contenti di questa vincita. Quindi è caccia al vincitore? Sì, è caccia al vincitore. E se si presenta all'improvviso che cosa gli dite? Niente, a parte i nostri complimenti, cosa vogliamo dirgli? Proprio niente.